Contenti per l'Expo ma c'è anche un altro Molise. I dati dicono di migliaia di contatti dopo la settimana molisana a Milano. Frattura esulta ma la realtà dice anche che la crisi e i problemi sono ancora irrisolti. Arrestato truffatore deve scontare 16 anni, lo cercava la procura di Pescara ad alcuni anni, l'uomo rintracciato in una casa di termoli dai carabinieri specializzato nelle truffe e nell'eludere l'arresto. Processione in barca per la festa del mare, uno degli appuntamenti centrali dell'estate, la festa di San Basso nella suggestiva uscita dei pescherecci che lo hanno scortato nell'Adriatico. Giase, zampogne, pecora e bacalada, la musica d'autore dell'Eddy Lenga, la tradizione popolare di San Polo Matese, poi i carri di Frosolone e la pezzata di Capracotta nel primo weekend di agosto. Vacanze molisane per Beppe Signori, l'ex bomber azzurro trascorre le ferie a Termoli, nell'intervista a Telemolise ripercorre tutte le tappe della carriera. Buon pomeriggio dalla redazione di Telemolise edizione delle 14 del nostro telegiornale e buon inizio di settimana. Parliamo di Expo, si è conclusa da qualche giorno, da più di una settimana, la settimana molisana, scusate per il gioco di parole, del Molise all'Expo di Milano. È stato un successo, ha detto il governatore Paolo Frattura, anche citando i numeri dei contatti avvenuti anche sui social network. Esiste però un altro Molise, quello potremmo definirlo di casa nostra, dove la crisi e i problemi sono però ancora irrisolti. Sentiamo Pasquale Di Bello. Appassionato come di scienze occulte, il presidente Frattura continua a vedere un Molise che non c'è. Un Molise felice che nelle ultime ore, interrogato il tavolino a tre gambe, si è materializzato in quello che al nostro governatore deve essere apparso un risultato straordinario. 70.000 visualizzazioni sui social network relativi a video realizzati in occasione dell'Expo di Milano. Non è dato di sapere a quale lasso temporale Frattura faccia riferimento e, soprattutto, quali e quante addizioni abbia compiuto, ma sarebbe bene che qualcuno spiegasse al governatore che 70.000 click sono il risultato medio che un qualsiasi sito web di bassa importanza realizza in un paio di giorni. Detto questo, è sorprendente la costante e robusta dose di fumogeni che quotidianamente sparano da Via Genova, sede della Giunta regionale. Secondo in questo, solo alla nuvolaglia nera e ai petardi sparati dall'assessore al lavoro Petraroia da Via Toscana, che, questo va detto, raggiunge livelli da record del mondo. Il Molise è una regione che sta letteralmente morendo, strangolata da decine di crisi industriali, una disoccupazione alle stelle, livelli di povertà da brivido, un sistema di trasporti da medioevo, sanità distrutta, tasse alle stelle, clientele da bazar e una classe politica di vampiri attaccati con i canini alle sangui casse pubbliche. Bene, davanti a tutto questo, cosa fanno dai piani alti? Pensano ai click sui social network, come se il mondo virtuale potesse in qualche modo sostituire quello reale. Su una cosa però non si può dare torto a frattura, quando descrive il Molise come una regione silenziosa, capace di lasciare senza parole. In effetti, con la disperazione in circolo, quella che ha tolto la voce e la speranza a migliaia di famiglie e lavoratori, il Molise è una regione che lascia letteralmente senza fiato, esattamente come avviene i trapassati nel momento del congedo. Il Molise, purtroppo, è una regione morta su tanti fronti e la ragione del silenzio è solo questa. Convocato per domani in prefettura a Campobasso il tavolo di concertazione per l'esame dei problemi sullo stato di crisi dello zuccherificio lo hanno reso noto i sindacati dopo aver ricevuto la lettera di convocazione del rappresentante del governo. All'appuntamento è stata invitata alla regione l'amministratore unico dell'azienda Enrico Cianciosi, curatori fallimentari Mirella Mileti e Nicolino Musacchio. I rappresentanti sindacali dell'azienda da tempo chiedono un incontro per discutere e eventualmente organizzare la campagna dello zucchero. Lega Autonomia e il presidente della provincia di Campobasso hanno spiegato cosa cambia nel decreto enti locali e perché chiedono modifiche al testo. Ce ne parla Tonino Danese. Il decreto enti locali va modificato lo chiedono Lega Autonomia e Molise e la provincia di Campobasso. I mutasi, sicurezza nei trasporti, piano investimenti, manutenzione, finanza delle province, fondo per equativo sono i temi cardine su cui Filippo, Poleggio e Rosario De Mattè si sono soffermati. Urge un cambio di rotta per evitare tracolli. Le criticità stanno nell'incertezza del futuro degli enti locali. Per quanto riguarda i comuni le restrizioni sempre maggiori e quindi la difficoltà nel garantire le prestazioni di servizi essenziali ai cittadini. E però il decreto durante il leader parlamentare ha avuto dei miglioramenti. Noi sottolineiamo ancora la necessità di maggiore flessibilità per quanto riguarda la possibilità di investimenti, quindi allargamento del patto di stabilità. La situazione più critica è quella delle province. Chiediamo che ci sia un intervento straordinario e in particolare quello che riguarda un piano generale della viabilità. La provincia di Campobasso ha approvato il bilancio ma i problemi sul tappeto restano e le misure adottate sono solo tampone. Da tempo che chiediamo maggiori risorse per le province. Alla luce di quello che sta accadendo la riforma del rio è un fallimento perché si stanno accorgendo che i servizi non funzionano, che le risorse non ci sono e che soprattutto si aggrava la spesa per quanto riguarda il dimezzamento dei dipendenti che comunque andranno ad altri enti e hanno lo stesso costo, se non di più come è avvenuto nella regione Veneto. Adesso che cosa chiedete? Noi chiediamo una maggiore sensibilità verso le problematiche delle province. Non è concepibile che nel 2016 ci sarà un ulteriore taglio di 2 miliardi di euro e nel 2017 3 miliardi. È assurdo, pare che si stiano rendendo conto di quello che hanno fatto e vorranno correre ai ripari. Noi abbiamo potuto chiudere il bilancio grazie alla rinegoziazione dei muti ci è stata data questa possibilità. Però è un bilancio striminzito che non ci consente comunque, ci consentirà di garantire il riscaldamento nelle scuole, lo sgombro neve, però quando riguarda la viabilità, i problemi ci sono, lo sfalcio dell'erba, quindi è un bilancio che ci consente di sopravvivere. Andiamo a Termoli ora dove nella mattinata, è terminata poco fa, si è celebrata una delle processioni più suggestive, quella in mare dedicata a San Basso con i pescherecci che fanno da scorta al santo patrono della città. Qualche problema in più per le condizioni del mare non proprio ottimali, ma come sempre tantissima gente anche dalla riva assistito a questa imponente manifestazione. Sentiamo Fabrizio Chionero. Una città legata alla tradizione marinara e tante famiglie che durante tutto l'anno lavorano con grandi sacrifici affidandosi al loro patrono. San Basso, protettore di Termoli e dell'intera diocesi, è un punto di riferimento, il cuore dell'identità di un luogo e di chi ci vive. Fede, religiosità popolare e folclore tra vecchie e nuove generazioni. La processione in mare rappresenta l'apice di un anno intenso, fatto di impegno, speranza e consapevolezza. Quest'anno per la prima volta al moto peschereccio Pegasus è toccato l'onore di portare la statua di San Basso. Dopo 50 anni, finalmente per la prima volta, riusciamo a portarlo con questa barca. Un sogno si è concretizzato? Eh sì, si è concretizzato anche perché io insieme a un gruppo di amici da oltre 25 anni portiamo il santo in processione in spalla il 3 e il 4 di agosto, quindi in un certo senso mi mancava solo questa cosa. dal porto il suggestivo corteo ha raggiunto il largo dove il vescovo Gianfranco De Luca ha recitato una preghiera prima del lancio della corona dedicata a tutti i caduti del mare. E' la mia seconda volta di San Basso come sindaco e ovviamente sono sempre emozionato per questa festa che diciamo unisce tutta la città. Nel 2015 ricade anche il quinquennio che vede le delique osse del santo patrono esposte ai fedeli per la preghiera. Dalla cattedrale la teca di Cristallo verrà portata anche in processione lungo le vie cittadine. E' l'occasione per ritornare al centro, per ritrovare il centro che è uno solo, la consapevolezza di essere amati da Dio, di essere dono perciò e il dono si realizza nella misura in cui a sua volta viene donato. Quest'anno sui pescherecci è anche un messaggio ambientalista, un no fermo alle trivelazioni in Adriatico ribadito nelle bandiere e negli striscioni. Riflessioni e non solo, gruppi di giovani e tanti amici pronti a condividere una festa collettiva che dai pescherecci si sposta altrove. Negli occhi di Matteo e Francesco, i figli dell'armatore e dei loro amici, l'emozione della prima volta, il vanto di salire sulla barca che ha portato San Basso. Viva San Basso! Parliamo dei funerali di Renzo Felice, questo è il nome del giovane di 36 anni che è deceduto in seguito ad un incidente in moto, si svolgeranno nel pomeriggio alle 17 a Campobasso nella chiesa di Sant'Antonio di Padova. Il ragazzo insieme a tanti altri amici stava percorrendo questa strada che vedete nelle immagini in prossimità di Guardia Reggia quando è uscito di strada proprio su questo ponticello oltre i carabinieri che vediamo appunto nelle immagini. È precipitato da un'altezza di una quindicina di metri e il volo non gli ha lasciato scampo. Sono al vaglio degli investigatori i motivi per i quali il ragazzo è entrato in questo ponticello andando praticamente dritto senza curvare. Ad ogni modo, come dicevamo, i funerali si svolgeranno nel pomeriggio alle 17. La sua abilità è stata soprattutto quella di evitare, almeno fino a oggi, l'arresto. Negli ultimi anni lo cercava la polizia di Pescara perché è autore di una serie di truffe che gli hanno valso una condanna a 16 anni di carcere. I carabinieri lo hanno scoperto a Termoli. Lo cercavano da anni ma lui riusciva a sfuggire e a nascondersi senza lasciare traccia. Carlo Vigiani, pescarese di 55 anni, deve scontare 16 anni e due mesi di carcere. La sua regola di vita, giudicare dagli atti messi uno sull'altro dalla procura abruzzese, è stata quella di vivere senza regole. E così nel tempo ha inanellato una serie di truffe che gli sono valse l'accusa di associazione a delinquere, sostituzione di persona e ricettazione. L'uomo, da tempo irreperibile, è stato arrestato al termine di una complessa attività d'indagine. I carabinieri hanno tenuto d'occhio gli ambienti della piccola delinquenza locale che il 55enne frequentava. I suoi spostamenti tra Pescara, Chieti, Francavilla e Termoli. E proprio a Termoli, in particolare, Vigiani aveva trovato un posto tranquillo e insospettabile in cui nascondersi una casa abitata da alcuni ragazzi, tra cui anche dei minorenni. La condanna a 16 anni di carcere di Carlo Vigiani è relativa a una serie di truffe che l'uomo avrebbe messo in atto mediante assegni bancari falsificati o contraffatti, documenti di identità e buste paga predisposte ad arte per commettere truffe, oltre alla ricettazione di titoli di credito rubati. Tutti reati attraverso i quali Vigiani e i suoi complici hanno tratto il sostentamento negli ultimi cinque anni. La sua abilità a eludere l'arresto è stata favorita dal sostegno di alcune persone che i carabinieri hanno già individuato, che ne hanno agevolato la latitanza, provvedendo ai suoi bisogni quotidiani e anche al ritiro della pensione di cui è titolare. Vigiani, per evitare di cadere in trappola, avrebbe anche evitato alcune visite mediche alla ASL di Pescara. Alla cattura, oltre ai carabinieri del nucleo investigativo di Pescara, hanno partecipato i carabinieri di Termoli e il ROS di L'Aquila e Roma. Torniamo a Campobasso ora per parlare di una situazione di degrado che va avanti da tempo. È quella di uno stabile in via Quircio alla periferia sud della città, uno stabile di proprietà dello IACP, dove i muri sono anneriti a causa di un incendio che si è verificato alcuni anni fa. Entra l'acqua negli ascensori, ci sono atti di teppismo. Insomma, una situazione al limite di cui ci parla Marta Martino. Sono anni che gli inquilini della palazzina di via Quircio Smerosette a Campobasso chiedono l'attenzione dello IACP. Degrado, furti, incendi dolosi, un amministratore assegnato dall'ente che, a quanto dicono gli inquilini, non fa quello che dovrebbe. Perfino l'antenna della TV che non funziona da due anni. Umidità, caduta di calcinacci. Del caso si è interessato come avvocato e come consigliere comunale il grillino Roberto Gravina, che ha chiesto spiegazioni all'OIACP. Malente, a quanto pare, ha ignorato anche lui. Appena entrati nel portone, notiamo qui al lato delle scale una grande macchia nera. Qui si è verificato un incendio tre anni fa, mi diceva, ed è rimasto in queste condizioni il muro. Sì, sempre così. Tutt'ora siamo così, respiriamo questo schifo, non sappiamo che cos'è. E io faccio un appello al prefetto, al sindaco, chi è che sia, di venire a far analizzare questo schifo che siamo a respirare noi, i bambini e tutto quanto, se è tossico per la nostra salute, sì o no. Perché lei diceva si sente ancora un odore acre. Specialmente in questi giorni che ha fatto questo caldo, noi ancora respiriamo, sentiamo proprio la fuligine nel naso, nella bocca, respiriamo ancora odore di agro che ci resta in bocca. Quindi noi vogliamo sapere. Qui c'è l'ascensore, apriamo un attimo l'ascensore. C'era un problema anche con l'ascensore? Sì, c'è un problema anche con l'ascensore. Poco tempo fa sono intervenuti i vigili del fuoco perché c'è stato un problema nell'ascensore. Hanno alzato il pannello dell'ascensore, sta pieno d'acqua, ma non è acqua ferrarelle. È acqua nera, dove, non lo so, si saranno fatte anche le bisce, penso. Sta pieno, pieno, pieno di melma, di schifo. I vigili del fuoco hanno detto che si doveva pulire immediatamente. È fatto presente all'OIACP, stiamo tuttora così. Le cassette delle lettere, vediamo, hanno qualche problema anche le cassette delle lettere. Le cassette delle lettere, io un anno che sto così senza cassetta, non ricevo posta. Il nostro amministratore è presente soltanto una volta al mese. Viene, riscuota, mette la vizio e se ne va. Riunioni di condominio? Mai. Questo cosa sarebbe? Un serbatoio dell'acqua. Vedete le prese, le prese. Vediamo la presa di corrente qui. Questa sapete che è? Che cosa è questa? Non voglio dire. Perché vanno a dormire negli scandinati e vengono a fare qua i bisogni. Questo scandinato è stato aperto? Che gli è successo a sto scandinato? Sì, è stato aperto e poi il proprietario purtroppo ha dovuto voler vedere. Ma gli è stato rubato qualcosa all'interno? Sì, anche è stato rubato. Qua pure hanno tentato di aprire. Qui hanno tentato di aprire. Qua altrettanto. Anche qua. Qua altrettanto. Purtroppo qua il portone è rotto e sta sempre aperto. Il portone è rotto. Quindi qua può entrare chiunque. Dopo è successo l'incendio, a casa nostra non è venuto nessuno. L'incendio era doloso? Doloso. Quindi qualcuno ha piccato? Sì, hanno appiccato dei materassi che stavano appoggiati là. Vediamo che se passiamo le mani sul muro, le mani restano tutte nere. E questa è tutta fuligine che entra in casa. Respirate giorno per giorno questo, da tre anni. Ecco qua i calcinacci che cadono giorno per giorno. Cadono calcinacci del balcone. Sono 4 mila i diaconi in Italia, definiti il ponte tra la Chiesa e i fedeli. In Molise si svolgerà il 25esimo convegno nazionale con relatori di spicco. La famiglia del diacono. Il tema che sarà affrontato è stato oggi l'arcivescovo di Campobasso, Bregantini, a illustrare la quattro giorni. Mercoledì pomeriggio al Centrum Palace di Campobasso il primo incontro. Giovedì dalla mattina fino alle 21 l'appuntamento invece al santuario di Castelpetroso, anche con gruppi di lavoro e incontri con delegati. Venerdì mattina invece si torna a Campobasso. Ci sarà il cardinale Beniamino Stella, prefetto della congregazione del Clero. Parlerà della visione e delle aspettative sul diaconato nell'insegnamento pontificio. Il convegno proseguirà anche nel pomeriggio. Sabato mattina invece sempre a Campobasso la relazione di padre Raniero Cantalamessa, predicatore della casa pontificia sul diacono servitore di Cristo. Apriamo la pagina degli appuntamenti, cominciando con Lady Lang. Il festival dedicato al jazz si è fermato a Termoli, dove si sono esibiti gli incognito. Ce ne parla Manuela Iorio. Due ore di exit jazz che hanno travolto il pubblico al porto. Protagonisti, gli incognito storica band inglese arrivata a Termoli nell'ambito del Lady Lang Jazz Festival che quest'anno festeggia i suoi 25 anni. Una manifestazione di punta che nel tempo è cresciuta tantissimo e che è stata capace di portare in Molise i nomi più blasonati del jazz mondiale. Una storia lunga quasi 40 anni invece è quella degli incognito, con 28 dischi pubblicati. Tanti musicisti che si sono avvicendati nel gruppo, il cui leader e fondatore storico è Mr. Incognito, voce e chitarra, e lui l'anima della band. Non cambiamo, cresciamo, troviamo nuove idee. Non è la storia del gruppo, è il cambiamento, ma è la crescita che si sviluppa nel corso degli anni insieme alla musica, che è sempre la stessa, il jazz, il soul, il funk, e loro sono cambiati insieme alla musica e alle storie che raccontano, alle nuove canzoni che scrivono. Noi abbiamo sempre un nuovo progetto perché abbiamo sempre nuove cose da raccontare e cerchiamo di vivere la vita e raccontare le cose che viviamo, come farebbe chiunque in un altro mestiere. E cerchiamo nel nostro piccolo, con delle piccole canzoni, cercare di portare un suggerimento positivo, un momento di piacere anche in una situazione molto difficile. 12 componenti del gruppo con cantanti e musicisti che si sono esibiti in un mix perfetto, uno stile jazz che incorpora elementi funk e soul, capace di creare un sound non solo da ascoltare, ma anche da ballare. Il loro groove inconfondibile, caratterizzato da un basso, dal suono tondo e definito, da accompagnamenti chitarristici ai massimi livelli del funk, da dolci melodie dei sax, da armonie delle tastiere insieme a voci esplosive e calde, insomma un compendio della musica black. Ci spostiamo a Frosolone dove i carri allegorici hanno sfilato con la consueta cornice poi del piatto tipico di questa festa, i peperoni e il baccalà. Sentiamo Sergio Di Vincenzo. Non è mai facile per la giuria scegliere il carro più bello. Ogni gruppo narra in modo del tutto originale pagine importanti o comunque curiose della storia di Frosolone. In effetti le tantissime persone in attesa del passaggio di questi autentici capolavori hanno avuto modo di constatare che l'impegno e la creatività dei protagonisti della sfilata del primo agosto permettono di raggiungere risultati davvero apprezzabili. Gli allestimenti sono curati nei minimi particolari, le riproduzioni di case, chiese e piazzette sono praticamente identiche alle originali. Le scene recitate durante tutto il percorso sembrano essere proposte da veri attori. E poi su quei carri c'è quel clima di allegria che ci mette davvero poco a contagiare tutti. E in fondo è proprio questo il senso della manifestazione, divertirsi e far divertire. Obiettivo centrato in pieno anche quest'anno, grazie anche alla notevole partecipazione di pubblico e di carri allegorici in gara, ben 13. Ha vinto quest'edizione la processione di Sant'Emilio a Colle Carrise. Le scenografie, le interpretazioni e la trovata geniale della Stata del Santo in carne ed ossa hanno conquistato davvero tutti. Abbiamo cercato di riprodurre tutto il corteo della processione con un nostro parroco anziano che oramai non c'è in più, Monsignor Don Filippo Fracasso, con suo fratello Nicola. E poi andando in giro per ricopiare la statua di Sant'Emilio, siamo stati da un signore a Macciacodena, lui mi guardava e mi diceva, e mi riguardava, diceva a un certo punto, perché non lo fai tu Sant'Emilio? Seconda piazza per il carro di Acquevive, che ha riproposto una casa di altri tempi con tanto di prelibatezze preparate e sfornate durante la sfilata. Abbiamo rappresentato la famiglia di una volta, in cui c'era un capofamiglia e il nostro tatone appunto. Cioè era il capofamiglia, ma non era un padrone, era una persona a cui tutti dovevano rispetto e che comunque si imponeva su alcune decisioni importanti, tipo ad esempio quando iniziare il raccolto, quando ammazzare il maiale. Alle volte si intrometteva anche nelle questioni delle donne, andando per esempio a controllare se il forno era abbastanza ardente, era abbastanza buono per cuocere il pane. Terzo posto per un altro pezzo di storia di Frosolone, la vendita dei muli all'ombra del monumento ai caduti. Abbiamo rappresentato il monumento dei caduti, come era nel 1920, appena dopo la guerra mondiale, perché è stato fatto appunto per i morti e sono stati scritti sopra una lapide. Prima l'esercito, sotto questo monumento c'erano dei muli, e l'esercito veniva a comprarli per andare in guerra. Torniamo a parlare di musica, perché a San Martino in Pensilis si sta svolgendo il Joe's Blues Festival, sul palco diversi gruppi ad aprire la serata, i Tintiglia Sound seguiti da una leggenda tutta italiana del blues, Mario Insegna, e con i suoi blues staff granitico ed energetico, alla sua batteria, ha guidato il pubblico su spunti di riflessione, sia musicali che sociali. Poi si è esibito Davide Pannozzo, definito dagli esordi un enfant brodige del blues rock, che ora raccoglie a piene mani il successo costruito nel tempo, pensando a piene mani, dicevamo, nei grandi nomi che ascoltava da adolescente. Stasera ci sarà l'attesa serata con Sonny Road, autentica leggenda vivente del blues americano, durante la serata street food, e poi i riflettori saranno accesi dal pomeriggio di oggi fino all'alba. Dalla musica blues a quella più popolare, ma di sicuro più tradizionale, almeno per quanto riguarda le nostre parti, parliamo della Zampogna, si sono dati appuntamento a San Polo Matese, gli appassionati di questo strumento, ce ne parla Giuseppe Carriera. Numerosa e sempre più coinvolgente la partecipazione degli appassionati di Zampogna, provenienti dall'intero Molise, ma anche dalla Puglia, dall'Abruzzo, Campania, Lazio, addirittura Licuria, che si sono spinti nella bella cornice di San Polo Matese per confrontarsi a più livelli sulla conoscenza dello strumento e sulla tecnica realizzativa e musicale, con esibizioni comuni di grande impatto. L'evento è stato organizzato anche quest'anno dall'Associazione Culturale Zampognari del Matese. I prossimi porgetti, oltre a portare avanti il discorso del festival, che chiudiamo con la sedicesima e da domani si riparte per la diciassettesima, la scuola della Zampogna e l'officina della Zampogna. Dobbiamo realizzare l'officina della Zampogna. Grande accoglienza da parte del Comune Matesino per le centinaia di persone che nell'occasione hanno trascorso la giornata all'insegna della musica tradizionale e del folklore. Ma veramente sta andando in maniera eccezionale. Ci siamo svegliati al suono di Zampogna dalle 9 stamattina. Sono venuti 60 ospiti da tutti i paesi limitrofi, dalle regioni limitrofi, addirittura da Genova, è venuta una coppia di zampognari. È una tradizione iniziata oramai da anni. Abbiamo associato la festa della Zampogna al Santo Patrono perché questi sono i nostri santi, sono i santi della transumanza. Quindi la Zampogna è un strumento semplice, ideato dai nostri pastori nel passato ed è rimasto poi uno come strumento di... insomma ce l'abbiamo nel DNA qui a San Polo. Tutti suonano la Zampogna o almeno strimbellano. Un evento, quello legato alla Zampogna del Matese, che si inserisce all'interno dei festeggiamenti di San Nicola di Bari, il patrono di San Polo. Nell'omelia presieduta dal vescovo Monsignor Bregantini, il ricordo del Santo è il suo obiettivo in vita di perseguire l'uguaglianza tra i popoli. Al termine della funzione religiosa, il maestro Piero Ricci ha voluto dedicare un omaggio musicale in onore di un giovane musicista scomparso circa un mese fa. Sì, non abbiamo omaggiato soltanto San Nicola, ma anche il nostro amico scomparso Franco di Rienzo, un musicista, insomma, per me è stato un momento molto molto importante. Quando muore qualcuno muore la tradizione, quando muore il musicista muore anche un po' la nostra cultura musicale. Io che sono musicista, insomma, sono molto attento a queste cose. In serata invece la Transdalantella dei Kalashima, un progetto artistico d'avanguardia che coniuga tradizione e sperimentazione. Appuntamento col Teatro Popolare invece questa sera al Parco San Giovanni di Campobasso, dove prosegue il Festival Nazionale. Ci sarà la compagnia del dopolavoro ferroviario con lo spettacolo Arezzo 29 in tre minuti, tassista veloce, l'appuntamento è alle 21. E un altro appuntamento della nostra estate, tradizionale atteso, è la pezzata a Capracotta. Sentiamo. Il tempo incerto non ha fermato gli appassionati della pezzata. Anzi, per molti è stata l'occasione buona per godersi un po' d'aria fresca senza dover ricorrere ai climatizzatori. Come sempre a Prato Gentile di Capracotta si sono date appuntamento migliaia di persone. In effetti lo scenario si presta per la classica scampagnata, meglio ancora se poi c'è chi cucina per tutti, ossia i volontari della Proloco. Grigliate di agnello a parte, nei calderoni, sin dalle prime ore del mattino, viene fatta bollire la pezzata. Una ricetta semplice, dal sapore antico, che ricorda quei tempi in cui davvero non si buttava via niente. La ricetta, diciamo, è antica. Viene dai pastori, dalla transumanza di una volta. Quando morivano le pecore, i pastori non la buttavano, la recuperavano e quindi mettevano in questo brodo che facevano, quel poco che avevano. è un brodo di pecora, ma semplice, non sofisticato. Anticamente potevano portare dietro una cipolla, un po' di sedano, qualcosa così, e si metteva quel poco che si aveva. Noi non abbiamo modificato niente di questo. Quindi, ecco, un peperone, un po' di sedano, la carota e la cipolla. Il segreto della pezzata è la cottura, perché richiede molto tempo, ci vogliono almeno 5 ore di tempo. Quest'anno la pezzata ha tagliato il traguardo delle 50 edizioni. Per un anniversario così importante, il regalo è arrivato da Expo, che ha concesso il suo patrocinio a una manifestazione, tra l'altro, già inserita nel circuito delle sagre più importanti d'Italia. In fondo, se la gente fa centinaia di chilometri per partecipare, un buon motivo deve pure esserci. Lei da dove viene? Da dietro l'angolo, da Trieste. Proprio a due passi? Esatto. Come ha scoperto la pezzata di Capracotta? Ho trovato la moglie del paese e di conseguenza sono qua ogni anno. Ogni anno approfitto di questa bellissima festa per assaggiare un buon prodotto e quindi di conseguenza tra l'amicizia è un buon prodotto che vogliamo di più. Potrebbe anche essere molto più affollata questa festa, se magari forse un po' più di pubblicità, perché meriterebbe molto di più. Noi veniamo dall'Australia, è il ginaglio di Capracotta, no, di Agnone, siamo di Agnone, però veniamo l'anno scorso è venuto tre volte, quest'anno è venuto qua eppure un'altra volta è venuto qua un'altra volta a Capracotta qui a Travedere. Ne approfittate per mangiare la pezzata? Com'è questa pezzata? La pezzata è molto buona, sì. Ci fermiamo su queste immagini, le previsioni del tempo e la pagina sportiva, poi ci vediamo alle 15 più o meno per gli aggiornamenti. Grazie, è tutto per ora, a più tardi.